TG Sport San Nicola in ricordo quest'anno di Gianmarco Di Vico Birilli già pronti a San Giuliano del Sagno per il quarto slalom di San Nicola che avrà luogo domani nel suddetto comune organizzato dalla Tecno Motor Racing Team in collaborazione con la SD Tecno Motor ufficiali di gara alla casta una manifestazione un po' particolare quella di quest'anno dedicata a Gianmarco Di Vico giovane campobassano prematuramente scomparso lo scorso 8 luglio inoltre per la prima volta la gara molisana sarà valida per la corpa zona 3 AC Sport inserita nel circuito Promotris Slalom Pietra Molana e Vini che si sono già disputati lo slalom di San Nicola sarà quindi determinante per incoronare i vincitori della Kermess il percorso previsto di 2.990 metri si svolgerà sulla strada provinciale che attraversa il cuore della cittadina di San Giuliano ed è caratterizzato da 14 postazioni di rallentamento tutte formate da 4, 5 o 6 file di birilli e 3 aree di sicurezza vigilate riservate al pubblico che in questo modo potrà assistere in maniera ottimale alla manifestazione e godersi l'arrivo all'ultimo metro dei piloti oggi le verifiche tecniche sportive per le oltre 60 vetture iscritte l'inizio invece è previsto domani alle ore 10.30 con la salita di ricognizione seguita dalle tre manche di classifica sarà un tragitto molto tecnico, veloce nel primo tratto e con molti tornanti a salire nella seconda parte una prova dunque che nel corso degli anni sta crescendo sia dal punto di vista sportivo che dalla promozione del territorio grazie ad un numero di iscrizioni sempre più numeroso la metà dei concorrenti quest'anno risulta essere molisana mentre l'altra è composta da partecipanti delle regioni limitrofe al comando della direzione sportiva ci sarà per il quarto anno consecutivo Claudio Dapote come di consueto è in programma anche una gara di regolarità turistica autostoriche e moderne che contribuisce a rendere questa manifestazione l'evento di punta dell'estate san giulianese sicuramente uno spettacolo da non perdere basket femminile di serie A2 si amplia il pacchetto under della molisana Campobasso con Giorgia Amatori giocatrice brindisina classe 2003 capace di mettersi in mostra con le casacche dei team cittadini del Valorosa sul fronte under e dell'intrepida sul versante della C tra le senior il team di coach Mimmo Sabatelli si ritroverà al Palavazzieri il prossimo 19 agosto per dare il via alla preparazione precampionato calcio a 5 ieri la divisione calcio a 5 ha reso noto i gironi per la prossima stagione pronostici rispettati per le molisane del futsal nazionale ieri il consiglio direttivo della divisione calcio a 5 ha reso noto i gironi della stagione 2019-2020 il Molise calcherà i parchi di serie A2 e quelli di serie B Cus Molise nella seconda serie nazionale Chaminade, Sporting Venafra e Torre Maggiore in cadetteria sarà il raggruppamento C con 6 pugliesi, 4 calabresi e 3 siciliani ad ospitare il Cus Molise nella sua prima avventura in serie A2 questo l'organico Atletico Cassano, Barletta Calcio a 5 Real Roget di Cosenza, San Michele di Bari Virtus Rutigliano due le squadre di Reggio Calabria Magic Crati e Futsal Polistena Cus Molise Cataforio Bisceie Regalbuto Formazione di Enna Cefalù e Assosport Melillo di Siracusa una nuova avventura per il team di Mister Sanginario un girone di ferro con tutte squadre ben attrezzate di grossa tradizione di Futsal questo è il commento a caldo del trainer Cussino organico ancora da completare per il team molisano all'appello manca uno straniero prima del 26 agosto data di inizio della preparazione la società ufficializzerà l'ultima operazione in entrata scendiamo nel campionato cadetto girone G per i team molisani questo è il raggruppamento Futsal Torre Maggiore Olimpico Stuni Diaz Bisceie Calcio 5 Giovinazzo Aquile Molfetta Futsal Capurso Futsal Canosa Sporting Venafro Chaminade Campobasso Freetime L'Aquila e Real Dem Monte Silvano tra i sette team pugliesi inseriamo anche il Torre Maggiore vincitrice del campionato molisano di serie C due club molisani la Chaminade Campobasso al quinto anno consecutivo in serie B e la matricola Sporting Venafro salita tramite la Coppa Italia dopo la definizione dei gironi il prossimo passo per il consiglio direttivo della divisione Calcio 5 sarà la formulazione dei calendari che verranno pubblicati a metà agosto mentre il campionato inizierà sabato 28 settembre ciclismo parte domani da Oratino l'undicesimo trittico del Molise la gara ciclistica alle porte di Campobasso quest'anno festeggia i 40 anni le altre tappe del circuito a Boiano il Memorial Priolo a Castelpetroso il Memorial Tamburri per il calcio di serie D domani alle 17 ancora un amichevole per il Campobasso all'antistadio Acli in campo contro Bacicalupo Vasto seconda squadra di Vasto militanti in eccellenza abruzzese ingresso gratuito nella struttura nuovo centrocampista del Campobasso ma non nuovo in Molise siamo con Pizzutelli Federico Pizzutelli che giunge da quale squadra? ho passato 5 mesi alla Milano City poi a dicembre sono andato a Roccella ci siamo salvati facendo il play-out anche tu abbastanza giramondo gira Italia diciamo così sì sì dai però quest'anno ho scelto Campobasso proprio per il progetto per la serietà di questa società e niente non ho pensato a nulla ho detto subito di sì al direttore ti ricordiamo bene insomma ci si ricorda c'è un buon ricordo di te in Molise ad Agnone ma anche con la maglia della Vastese quindi un frequentatore del Girona F senza dubbio sì sì ad Agnone ho fatto bene ero sotto under il primo anno di Serie D ho fatto 30 presenze 6 gol quindi ho lasciato un buon ricordo lì poi due anni fa sono stato a Vasto abbiamo fatto un grandissimo campionato quest'anno penso solo qui a Campobasso qualcuno dice che sei bravo davanti alla difesa altri dicono che il tuo ruolo è stato cambiato da poco che puoi giocare anche come trequartista ci puoi svelare l'Arcano ma sì dal centrocampio in poi posso benissimo fare tutti i ruoli tranne la prima punta però quest'anno il mister ha scelto di farmi giocare vertice basso e sono contento per questo il mister ti riferisce a Cudini sì già sai il ruolo che ti toccherà giocherai quindi davanti alla difesa sì giusto giocherò davanti alla difesa quindi a spezzare il gioco sì a costruire anche il gioco ancora non ti vediamo all'opera ripeto perché non hai giocato contro la Juve Stabia nell'amichevole credo soltanto per un fatto precauzionale no no sono stato fermo questi giorni per un problema al tendine però da domani sono già con l'ora penso che domenica sono sicuramente a disposizione del mister c'è quantità e qualità in questo campo basso? ma sì dai ci stiamo conoscendo stiamo da sette giorni insieme a lungo andare si vedrà adesso sono queste sono partite che bisogna bisogna dare qualcosa in più anche per conoscerci il campionato tra un mesetto ma sono sicuro che arriveremo ad essere pronti Fabio Caserta tecnico della Juve Stabia contro il campo basso che tipo di amichevole è stata? due categorie di differenza diciamo soprattutto all'inizio il campo basso vi ha tenuto testa? sì è una squadra sinceramente ben organizzata che sa quello che deve fare ci ha messo anche in difficoltà soprattutto i primi 20 minuti perché riuscivano a trovare degli spazi siamo stati meno bravi rispetto a quello che abbiamo sviluppato del secondo tempo però in merito va al campo basso che sinceramente è una squadra che mi è piaciuta tantissimo perché ha delle idee ho un'organizzazione di gioco molto bella quindi mi ha fatto veramente piacere perché è stato un test per noi molto importante per voi la prima di Coppa Italia ufficiale l'11 agosto a che punto è la preparazione della Juve Stabia anche l'allestimento della Rosa? ma in questo momento siamo un po' carichi di lavoro perché ancora mancano un po' di giorni adesso inizieremo ad abbassare un po' i carichi sapendo che per noi è importante partire bene e cercare di superare il primo turno di Coppa Italia sul mercato ancora manca qualche tassello cerchiamo fino alla fine manca ancora un mese di portare a Castellammare i giocatori che per noi ci possono veramente dare una mano Serie B lei ha riportato la Juve Stabia in Serie B cinque anni dopo è stato anche giocatore della Juve Stabia che tipo di Serie B si aspetta quest'anno? una Serie B difficile perché è un campionato molto difficile dove dobbiamo cercare di lottare partita dopo partita per fare punti salvezza che è il nostro obiettivo è un campionato dove ognuno di noi io ho il primo anno con l'affronto d'allenatore quindi cercheremo di dare tutti e dobbiamo dare tutti più del massimo perché è un campionato che va affrontato con la massima concentrazione sapendo le difficoltà di questo campionato è stato lei è considerato quasi un eroe dal punto di vista calcistico per aver riportato la Juve Stabia in Serie B era un sogno per Castellammare? sì io sono stato calciatore e ho vissuto anche momenti negativi gli eroi sono stati calciatori perché in campo vanno sempre i calciatori io mi sono limitato a dare la mia passione il mio modo di vedere il calcio però i veri protagonisti sono sono e sono sempre stati calciatori il vasto Girardi prosegue il ritiro di Ateleta il giallo blu resteranno in Abruzzo fino a venerdì prossimo domani ancora un altro test un altro test amichevole contro il Casal Bordino martedì invece arriverà il Ladispoli in Alto Molise la squadra affidata a Mauro Marinelli e Matteo Pizzi prosegue gli allenamenti oggi test contro la Doinkes intanto la rosa dell'Olimpia agnonese deve essere ancora completata tanti giovani molisani aggregati al gruppo trattative in corso anche con Delisio che abbiamo incontrato al torneo di Limosano Renzo Delisio miglior giocatore del torneo Coste del Lago di Limosano infatti ha in mano il trofeo che lo testimonia Montaganese Doc come è andato questo torneo voi di Montagano molto bene per noi è un onore partecipare a questo torneo ogni anno portiamo la nostra presenza e onoriamo il paese ci veniamo a divertire come tutti gli anni portiamo qualche tifoso qualche ragazzo che si diverte si viene a divertire con noi passare una serata diversa dai tra l'altro tu sei praticamente molisano fuori sede nel senso che giochi a calcio quindi non propriamente a calcio a 5 cioè quello che hai fatto a Limosano ma giochi a calcio in che categorie e dove? ho giocato quasi sempre serie D eccellenza in Abruzzo serie D al nord con la Folgore Caratese ho avuto pure qualche combarsi in serie C in Svizzera serie B in Svizzera con la Scona e sei mesi a Messina serie C Lega Pro e quest'anno ho concluso in eccellenza in Abruzzo con il Capistrello per l'anno prossimo visto che è periodo di ritiri di convocazioni eh sì sto aspettando ancora qualche qualche proposta dove dove andare ancora non c'è niente di di sicuro magari un ritorno in Molise eh mi piacerebbe magari Campobasso Agnone chissà magari qualcosa può accadere magari ci può stare senti differenze calcio a 5 calcio a 11 tantissime 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 qui comunque noi lo pratichiamo molto a livello amatoriale possiamo vedere la prima classificata ciclo team comunque sono tutti giocatori che hanno già una certa esperienza a partire da Umberto Caruso che comunque gioca in Zerea e si nota già c'è un abisso tra noi e loro quindi gruppo montaganese pieno di entusiasmo con tanti tifosi al seguito qui al torneo di Limosano e che si è ben comportato sì 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 eh i ragazzi ci tengono molto sono ragazzi che si vogliono divertire ci supportano e veniamo tutti insieme diciamo dal paese veniamo qui a Limosano a fare a passare una serata diversa è stata una bella manifestazione certo certo piena di gente di colori e di entusiasmo infatti faccio le congratulazioni agli organizzatori di questo torneo che è veramente uno dei pochi tornei qui in Molise è un gran torneo è organizzato benissimo gente seria brava gente innanzitutto e complimenti a proposito del torneo Costa del Lago di Limosano spettacolo in campo e sugli spalti nella finale della quinta edizione in archivio la quinta edizione del torneo di calcio a cinque coste del Lago di Limosano davvero stupenda la cerimonia finale messa su dagli organizzatori prima con la finalina per il terzo e il quarto posto vinta da Ambrosia contro BOF poi le esibizioni Canore è davvero lo spettacolo grafico dell'ingresso in campo dei giocatori per la finalissima tra Cico Team e Altro Mondo Residence le piramidi tra l'altro risultato finale di 7 a 3 in favore di Cico Team che si laurea per la quarta volta consecutiva campione del torneo con il montaggio di Loreto c'era solo andiamo alla cronaca break di Di Lallo in avvio tiro Toscano risponde al volo evangelista gran gol per l'1 a 0 di Altro Mondo pareggia però subito Cico Team punizione di Caruso Di Camillo non la tiene ed è 1 a 1 vantaggio dei blu Oriente vince il contrasto con Vaino avanza e realizza di piattone il 2 a 1 poi combinazione bellissima Berardini Caruso quest'ultimo riceve e scarica in rete gol per il giocatore di Serie A a 1 Molisana davvero Umberto Caruso orgoglio del futsal della nostra regione accorcia sul finale Altro Mondo percussione di Vaino Toscano la tocca ma non può nulla sul tapin di Michelangelo Guglielmi che insacca il 3 a 2 passiamo alla ripresa Passarelli scarico per Caruso velocissimo sinistro incrociato palo clamoroso sempre Passarelli lob per Caruso lavoro eccellente da pivot scarico per Berardini che insacca il 4 a 2 momento propizio per i blu azione solitaria di Cappelletti che si gira sinistro basso sotto il piede di Di Camillo per il 5 a 2 successivamente ci prova Altro Mondo sinistro al volo di Evangelista palo interno sfortunati qui i ragazzi di Mister Dilio Caruso ancora una volta lui in buca per Pescolla tocco sotto di Camillo chiude poi perde la sfera e per Pescolla è facile realizzare accorcia Altro Mondo Galati da Corner trova amoroso ma nel finale squadre lunghe Caruso tutto solo scappa in contropiede rullata di Camillo tocca ma non chiude per il 7 a 3 finale premiazioni con Umberto Caruso capocannoniere il miglior giocatore precisamente il giocatore di Ambrosia Renzo Dilisio è naturalmente primo posto per Cico Team che per il quarto anno consecutivo riesce a vincere il torneo Coste del Lago con i fuochi d'artificio la quinta edizione va in archivio tiro al volo sabato 10 domenica 11 è in programma la non edizione del trofeo domenico mitro gara di tiro a piattello specialità fossa olimpica 50 piattelli a scorrere in programma San Giuliano del Zannio lo sci club Capracotta organizzato per domenica 11 agosto la quarta edizione del Capracotta trail prova di corsa in montagna sui 14 chilometri inserita nel calendario Parks Trail calcio regionale in attesa di conoscere i gironi le società di eccellenza e promozione si muovono sul mercato mercato in fermento nel torneo di eccellenza chi fa assolutamente sul serio è il comprensorio vairano dell'ambizioso patron rega la firma di Fabiano Sabatino è indicativa in tal senso il forte difensore centrale ha praticamente sempre vinto il campionato negli anni vissuti in eccellenza una dimostrazione di forza con l'obiettivo chiaro di vincere il torneo poi a seguire altri due colpi il difensore Sarracino classe 2001 ex Giuliano ed il centrocampista sempre 2001 Pignatelli dalla Casertana due fuori quota di spessore alla corte di Pacilio a Rocca Sicura si vuole proseguire sulla buona strada tracciata lo scorso anno la società vuole crescere e sta mettendo a segno diversi tasselli per un team ancor più competitivo in primis le conferme di livello il portiere Maggi il difensore scampa morte i centrocampisti Mingione Buonavoglia veri punti di forza vestiranno la maglia del Rocca Sicura anche nella nuova stagione a disposizione di Bonomi poi rinforzo in attacco dalla promozione laziale è arrivato Panzera nello scorso campionato 11 reti messi a segno con la maglia della Rustica di Roma altro innesto di livello il Colored di Allò ex Boiano esterno d'attacco per un Rocca Sicura dalle grandi ambizioni obiettivo serie D anche per il Venafro dopo l'arrivo sulla panchina di Alberto Bernardi ufficializzati i primi colpi difensori Bruno dall'eccellenza Abruzzese e Adamo proveniente dal Verbania poi il centrocampista Roberto 40 Campobassano proveniente dai Nero Stellati squadra di Sulmona da registrare le conferme di Roncone Fascia Vallone e Patriciello attesi nuovi colpi in particolare nel reparto avanzato con almeno due elementi pronti a vestire la maglia del Venafro colpo grosso di mercato per il campo di Pietra che si è assicurato come detto nei giorni scorsi le prestazioni dell'esterno offensivo Turai proveniente dal Boiano giocatore di livello che garantisce con le qualità la manovra con l'attacco già composto da Guglielmi e Cappelletti per il team del presidente Jacovelli tempo di conferme sul calciomercato si sta cercando un profilo di esperienza e da Boiano è arrivato l'esterno offensivo trequartista Scimò ufficiale la sua firma per l'ex Isernia una stagione dunque alle dipendenze di Mario Cordone Sabatino di Matteo Tartaglia e Cianitto ragazzi di grande prospettiva in porta fiducia a Sanè mentre dopo il colpo Gianmanco in difesa la società matesina è concentrata sul fronte offensivo per rimpiazzare Turai e Diallo a Gambatesa la nuova anzi la vecchia società presieduta dal presidente Conte ha ripreso in mano la situazione i bianco-verdi ripartono dalla colonna storica il portiere Luca Capobianco esperienza decennale ormai per l'estremo difensore di Lucera con la maglia del Gambatesa a seguire conferme per i senior Bruno centrocampista e il difensore Belpulsi restano anche i giovani Testa, Di Maio Cuciniello e Sanzari ragazzi di qualità reduci dall'annata chiusa nei play-out salvezza contro l'Olimpia Riccia ha firmato anche il centrocampista Ruggiero la società in attacco in trattativa con Morsillo Anchelli già bianco-verde e Tarantino lo scorso anno in forza alla Frentania capitolo Termoli la squadra partirà domenica 4 agosto per il ritiro di Monte Sant'Angelo sino al 14 agosto con mister Rufini 22 calciatori più lo staff presenti i giocatori Raspa Arace Rubino Florio Diniello Battista Dell'Aquila Leuci che è un portiere la nave Volpicelli Pablo Da Costa Roberti Merola e 6 under provenienti dalla Juniores del Sansevero e da Napoli la squadra allestita per il termoli a detta del presidente è quella di un team pronto a lottare per la vittoria del campionato dunque diverse squadre pronte per cercare la salita in Serie D intanto ieri è stata annunciata la partnership tra il termoli 2016 e Santi Pietro e Paolo diversi atleti della scuola calcio basso molisana faranno il loro debutto nel campionato senior Presidente De Filippis per la nuova stagione sportiva ormai alle porte è nata una collaborazione tra il termoli 2016 e la polisportiva San Pietro e Paolo due società ben distinte che lavoreranno per offrire un futuro calcistico alle giovani promesse molisane ma in particolare in che cosa consiste questa nuova collaborazione? Come società noi rimaniamo come Santi Pietro e Paolo e il termoli 2016 viaggia per conto suo noi gli daremo una mano a livello organizzativo offrendogli l'impianto per quanto riguarda l'allenamento poi le partite le faranno sicuramente al genocannarsi di termoli questa collaborazione è venuta in virtù di una situazione che tanti giovani che ercono in questa realtà non hanno mai lo sbocco necessario per continuare a fare calcio e farli divertire quindi questa collaborazione questa idea di collaborare con il termo 2016 è proprio questo il nostro progetto di far continuare i nostri giovani perché noi essendo una società di puro settore non abbiamo la possibilità di giocare nella dilettante il termo 2016 che è due anni che si è iscritto alla promozione sta facendo ottime cose e abbiamo ritenuto opportuno dargli una mano a livello organizzativo con i ragazzi e un po' con la struttura non solo però progetti con il termo di 2016 ma anche calcio giovanile noi siamo 35 anni che siamo nati come attività settore giovanile quest'anno diciamo che è andato proprio alla grande a livello di iscrizione che siamo arrivati a 300 ragazzi iscritti abbiamo vinto quasi tutto quello che c'era da vincere allievi regionali giovanissimi arrivati secondo abbiamo fatto un ottimo lavoro ciliegine sulla torta abbiamo dato anche un ragazzo alla pescare a calcio un portierino Paolo Orecchia ci sta un altro ragazzo che stava a pescare proprio ieri ha avuto la notizia che è stato acquistato dal Sassuolo quindi quest'anno giocherà nella primavera del Sassuolo abbiamo uno staff che ci invidiano Lino Miele e tutti i ragazzi che ci danno una mano a livello di allenatori tutti i dirigenti io non posso fare che un plauso a tutta questa gente che lascia la loro famiglia per dare continuità a questa realtà Poi con un presidente Chioccio come lei Non è il presidente Chioccio e questa diciamo che è una passione che ho altri hanno altre passioni io ho queste di guidare questi ragazzi questa realtà però non sono solamente io ci sono altre persone che insieme a me hanno sposato questo progetto E il gioco di squadra che vince? Eh no è chiaro quando si vince vince con tutti quando si perde si perdono per tutti Calcio Balilla il torneo di Calcio Balilla organizzato da Trevisonno Biliardi e Giochi mercoledì farà tappa a Castro Pignano l'undici sarà Ripa Bottoni ad ospitare la Kermess itinerante bene era l'ultima informazione per questa edizione del nostro TG Sport buon fine settimana sicuro grazie a tutti più grazie a tutti Grazie a tutti.